gentili telespettatori buona giornata voi sapete avrete intuito che dietro lo stato c'è un apparato che cerca di impedire che la destra centrodestra salvini meloni berlusconi va dal potere come indicano tutti i sondaggi gli italiani sono per la maggior parte di centrodestra anche perché comunque diventa anche difficile dire io sono del pd con le cose che sentiamo da letta le sue assurde priorità la sua assenza di proposte economiche sociali politiche e così il popolo di centrosinistra diminuisce sempre di più molti abbandonano le idee di sinistra per passare a un centro centrodestra più ragionevole più democratico anche dall'altra parte hanno il titolo partito democratico ma la democrazia probabilmente nella maggior parte dei casi sta nel centrodestra così sembrerebbe per questo che stanno cercando di fare di tutto per scongiurare che alle elezioni si arrivi o in maniera anticipata che si arrivi in maniera anticipata da una parte abbiamo enrico letta che non ha nessun tipo di progetto non a caso già tallonato da stefano bonacini presto cambieranno questo enrico letta perché non ha assolutamente nessuna visione né del presente né del futuro dall'altra parte abbiamo conte sul quale aleggia lo spettro di luigi di maio ecco e così l'unico modo per fermare il centrodestra di governo è quello di mantenere in sella la coppia draghi mattarella nella stessa posizione di oggi mattarella al quirinale e draghi presidente del consiglio in modo che la voglia di draghi di andare al quirinale comunque non sia frenata perché mattarella starebbe lì solo fino a quando scade il mandato di draghi poi quando scade il mandato di draghi mattarella automaticamente dà le dimissioni e si libera il posto al quale dovrebbe ambrire draghi pertanto solo il posto al quirinale rimandato di qualche mese per permettere a draghi di finire il suo mandato non tanto questo viene fatto perché draghi è bravo di qui di là no mantenere draghi e mattarella lì per cercare di far governare la destra il più lontano possibile magari prima delle elezioni la sinistra risorge questa è la speranza di chi ha in mente questo piano il cosiddetto lo chiamano draghi dopo draghi cioè un proseguire a oltranza andare avanti il più possibile uno dei giornali che di più sta sponsorizzando questa teoria è il foglio che già da diverse settimane giorni per irrobustire questa tesi politica ospita interventi dall'ex direttore del financial time al partito del pil beh diciamo che pandemia ricostruzione del paese palazzo chigi mattarella beh questa idea di tenere draghi e mattarella così ad oltranza non dispiace a nessuno a nessuno compresa giorgia meloni all'opposizione giorgia meloni con l'opposizione e col tempo probabilmente continuerà ad accumulare votanti quindi a giorgia meloni interessa prendere un altro po di tempo anche se ufficialmente lei è per le elezioni subito ma più tempo passa più lei si può rafforzare la lega anche loro aspettano e sperano che passi più tempo perché salvini sta cercando di recuperare l'elettorato ha ricominciato a fare molto spesso degli incontri di piazza delle dei comizi che sono il suo forte per legare gli elettori le persone infatti con la pandemia molti analisti dicono e beh ma la gente se ne va dalla lega perché manca il contatto di piazza con il capo perché l'elettorato della lega è molto sui temi si cambiano da un partito e vanno nella lega perché c'è quel tema lì dell'immigrazione però se poi quei temi vengono meno o vengono meno anche le piazze allora quel voto di opinione se ne va da un'altra parte quindi anche Matteo Salvini ha tutta l'intenzione di prendere tempo per cercare di recuperare e consolidarsi come primo partito beh dall'altra parte nella sinistra i grillini sono molti di loro sono quasi disoccupati perché adesso che finirà questo governo loro hanno il vincolo del secondo mandato pertanto per loro votare assolutamente no il pd uguale perché andrebbe all'opposizione i partiti piccoli calenda renzi che sarebbero tagliati fuori dalla politica più stanno adesso in politica meglio è anche perché sono anche dentro il governo non solo renzi calenda ma anche leo liberi e uguali e così vediamo che in forza italia poi col taglio dei parlamentari e con tutte quelle la diminuzione nei sondaggi molti di loro non troveranno più lavoro e così non interessa a nessuno andare a votare subito dopo le elezioni del capo dello stato e pertanto questo questo tandem draghi mattarella che va avanti è quello più gettonato questa è la realtà o perlomeno quella che dovrebbe poi manifestarsi come la realtà molti dicono niente scherzi è subito un bis di draghi e mattarella l'obiettivo dare all'italia un futuro ambizioso ma soprattutto proteggere il nostro paese anche l'europa dalle risacche del populismo ma guardate che il populismo in realtà risiede nel movimento 5 stelle populismo nella lega in fratelli d'italia e nel centrodestra più in generale c'è come c'è trasversalmente un po dappertutto ma definire i partiti di centrodestra populisti che poi populisti viene indicato non certo come un termine bello è populisti un po come dire sempliciotti da bar no quelli che commentano le cose al bancone del bar con tanta superficialità sì quello lì è politico insomma dove l'hai sentito non lo so l'ho sentito da qualche parte sono mi ricordo ecco quando si indicano i populisti certo non è un bel un qualcosa di positivo no il populista un po è il sempliciotto con le opinioni da bancone del bar ecco pertanto la sinistra da questo questo titolo di populista e tutto quello che non è non è partito democratico e certo non in maniera positiva io vi ringrazio e vi auguro buon proseguimento di giornata